Ho condiviso con me tantissimi momenti, sia professionali che allì fuori di un campo di gioco. Non ho tantissime parole da dire perché il rapporto che avevo io con Franco andava appunto al di là di quello che poteva essere il semplice campo da gioco. Io e Franco siamo cresciuti insieme, è stato anche il primo portiere che ho allenato e con lui ho condiviso la sua crescita professionale. Poi questo rapporto si è rafforzato anche fuori dal campo e ho avuto il piacere e l'onore di conoscere la sua bellissima famiglia. È proprio loro che mi rivolgo, anche se sanno quanto affetto nei loro confronti. Un grandissimo abbraccio per Chiara, Francesco e Alessandro. Arrivederci. Un saluto a tutti, sono contento che tutti questi che siete lì pensate a Franco che è stata una persona eccezionale, abbia vissuto insieme tanti bei momenti e lo ricrederemo per sempre. Ciao!